Allora Miste, un 2014 che parte alla grande, una vittoria tennistica e più 4 su Pietrasanta. Ma al di là della vittoria tennista sono contento proprio della prestazione, perché era una partita che secondo me poteva nascondere mille insidie. Era la prima dell'anno, dopo le feste, era la partita che precedeva questi due impegni importanti che avremo sabato col Pietrasanta e poi il mercoledì la finale di Coppa. Quindi la mia paura è che non fosse presa nella maniera giusta. Invece devo fare i complimenti davvero ai ragazzi, perché sia per come si sono allenati in questo periodo, anche facendo sacrifici, lavorando dal primo dell'anno, sia per come hanno interpretato la partita su un campo anche impossibile da giocare. E quindi, dai, questi sono tutti i sintomi che ci portiamo dietro dall'inizio, di un grande gruppo, di questa grande voglia di ottenere risultati importanti. E dai, sono contento soprattutto per loro, perché hanno fatto veramente una buona partita. Ecco, ho detto proprio bene. Per le vacanze poche feste, ma tanto lavoro sul campo. Come si prepara la partita col Pietrasanta a livello agonistico e mentale? I giocatori si preparano da solo, dovrai solamente guidarli nella maniera giusta. Hai detto bene te, si preparano da solo. È una partita importante, perché adesso che sono a quattro punti di distanza, credo che domenica sia veramente una partita importante, sia per noi che per loro. Siamo prima e seconda, credo che siano le due squadre che hanno espresso i migliori valori. Quindi, siamo anche vogliosi di giocarci. L'ha avuto una squadra importante come Pietrasanta, che sta facendo benissimo. Quindi, si preparerà sicuramente da sola. Hai pensato anche alla partita di Pietrasanta oggi? Ha lasciato fuori Fiale, che era in diffida. E su un campo allentato e soprattutto brutto a livello del Manterboso, la squadra ha giocato, secondo me, un grande calcio. Questa è la nostra prerogativa. Poi, tra l'altro, avevamo quattro giovani in campo, quindi tutti dietro, perché il portiere, tranne i Barsotti, la linea difensiva era composta dai 94, che hanno fatto bene. Quindi, c'è la massima fiducia in tutti, in questi ragazzi, anche più giovani, che stanno crescendo tutti. E quindi, ho optato per non rischiare Fiale, che tra l'altro sta tirando la carretta dall'inizio. Quindi, stare un pochettino più fermo non gli ha fatto male. Poi c'era questa problematica della munizione, che se l'avesse presa aveva potuto saltare la partita di sabato. Quindi, sono contento anche per queste risposte che mi hanno dato Lici, Lazzarini, Giacovelli. E quindi, dai, la strada è quella giusta. Ora ci aspettano dieci giorni impegnativi dal punto di vista nervoso, psicologico. Però, sono convinto che, al di là poi del risultato che sarà, che i ragazzi la prepareranno nel modo giusto. Brega, è uscito fuori per infortuni o nulla di grave? No, non credo, ha preso una botta. Gli imperini mi sono spaventato perché c'era un rigore da battere e vedevo che non si alzava, quindi ho detto, si è fatto male davvero. E invece poi, alla fine, è solo una botta. Quindi, credo che non ci siano problemi per sabato.